State creando un esercito di persone che non avranno più nome né volto, oggi sono nei comuni, seguiti dai comuni. Domani non lo saranno più, capite? Non lo saranno più, quindi vagheranno per le nostre città. Quest'inverno, io sono sicuro, sotto i portici dormiranno molte più persone e molte più persone vagheranno perché li avete espulsi da percorsi regolari. Non potete continuare a dire che state risolvendo un problema, ne state creando un altro. Avete cancellato con una legge le persone ma non avete cancellato i problemi, i problemi rimarranno sul territorio, purtroppo saranno non più a carico di percorsi collaborativi, di istruzione, di inserimento lavorativo, ma saranno semplicemente a carico della parte emergenziale dei servizi sociali dei comuni. Perché queste persone, lo ripeto, non spariranno, non avete un accordo in più per farli sparire, non avete nulla per farli sparire, non avete accordi con la Francia e la Germania per ricollocarli, non avete nulla. Quindi queste persone saranno vaganti come fantasmi nelle nostre città. State creando in una maniera incredibile, vendendo come un provvedimento che dà più sicurezza, un provvedimento che tra poche settimane, tra pochi mesi, vi si ritorcerà contro. Voi avete generato ancora persone che continueranno a esistere. Ai vostri occhi sono invisibili, senza nome e senza volto, ma noi li ricorderemo e per questo voteremo contro. Togliete quelle maschere. Prego i commessi di avvicinarsi ai banchi del Partito Democratico. Bene, l'abbiamo visto, non stiamo al teatro. La Camera dei Deputati non è avanspettacolo. Togliete le maschere, per favore, collaborate con i commessi. Per cortesia, consegnate le maschere ai commessi. Grazie. Intanto prego il deputato Colucci di prendere la parola. Grazie. Grazie.